Mi viene un modo di definire che cos'è il cinema per me. Il cinema per me è il mio modo più naturale di realizzarlo. Non mi preoccupi di nessun cosa. Non so, io ho vedi, perché è un giro che c'è un giro nel bambino sire. Io ho vedi, io ho vedi, io ho vedi, io ho vedi. Vipi, 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 vipi. Vipi, 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 vipi. Rimont, ma è il israeli, vipi, vipi, vipi. Rimont, rock and pop. Ok, cadiva, next. Nu, sei, tu, sei, tu, sei, ma è un giro che, vipi, vipi. Nu, sei, tu, sei, ma è un giro che, vipi. Graziella, Nadia Chaychenko, L'elida, Argentina. Nandava in Buenos Aires, Vipi, vipi, 1965. Pesach, 4 children, 2 tiarini, 2 donne, vipi, vipi, vipi. Vipi, 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 vipi.